Battaglia in Parlamento, la Lega Nord dice basta alle spose bambine. Esatto, noi abbiamo presentato una mozione con la quale impegniamo il Governo a revocare il permesso di soggiorno e la patria potestà ai genitori che contraggono, o per meglio dire, fanno contrare per conto della figlia, un matrimonio di comodo. Un matrimonio di comodo che vede vittime delle bambine. Sono circa 2000 i casi registrati in Italia ed è una pratica aberrante, una pratica di importazione che è riconducibile in particolare alle comunità di religione islamica ed in particolare, se pensiamo anche al resto d'Europa, alle comunità albanese o turca, piuttosto che pakistana o comunque di chi appartiene o di chi arriva dal Nord Africa. Pensiamo però che due stati, quali l'Albania e la Turchia, che hanno le comunità più numerose nel resto dei paesi dell'Unione Europea e che sono portatori di questo incredibile comportamento, vadano penalizzati. Quindi anche alla luce delle richieste avanzate per l'adesione nell'Unione Europea, io credo che questo è un altro spunto che dovremmo utilizzare per fermare l'ingresso di quei paesi nell'Unione Europea.